Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, è morto pochi minuti fa il noto personaggio in questo video. Parliamo di un grave lutto che ha colpito in primis le reti Mediaset, ma in generale tutta la televisione italiana ci lascia un personaggio molto popolare e molto versatile e prima di averne di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di una grave perdita che ha colpito la televisione italiana a soli 61 anni e mancato un personaggio che era nel cuore di tutti quanti noi e con grande rammarico che il primo anno di Marco Liguori annuncia il decesso dell'autore televisivo Nicola Fuliano, ballerino, coreografo e noto soprattutto per essere stato autore e storica voce del confessionale del grande fratello Nicola Fuliano era un personaggio molto versatile, è stato come detto anche un grande ballerino e si è esibito nei teatri più importanti d'Italia. ha lavorato anche per emittenti come Rai, Sky e Lasettera, colui che consolava e teneva compagnia ai personaggi del grande fratello, una voce molto rassicurante che ha accompagnato le tante edizioni del noto reality condotto da Alfonso Signorini, mancherà tantissimo a tutti quanti noi, ai personaggi che si sono avvicendati nella casa in queste ore, tanti messaggi di cordoglio per la famiglia del grande personaggio ricordiamo Nicola Fuliano, autore televisivo e ballerino scomparso a 61 anni. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video, seguitemi anche sul secondo live di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti.